E naturalmente per un breve assunto della partita, risultati, classifiche, le tanto famigerate pagelle, abbiamo in studio Sergio Catalani. Buonasera Sergio, allora a te la parola. Sì, buonasera a te Lino e buonasera a tutti i telespettatori. Un pareggio, quello tra l'Alma e la Fermana, che muove la classifica per la truppa di Alessandrini in vista dell'interessantissimo match di Domenica nella Marcica contro l'Avezzano. Un'Alma che avrebbe meritato sicuramente di vincere, visto comunque la qualità del gioco soprattutto espressa nel secondo tempo e le occasioni mancate con Gucci vicinissimo al gol in almeno due o tre circostanze. Comunque positivo anche l'esperimento della difesa a tre con Chiacchiarelli e Sivilla a supporto di Gucci in avanti. Da dire che anche ieri l'Alma è incappata nella solita direzione di gara infelice perché cascella di Bari e lo vedremo non ci è piaciuto sicuramente in diversi episodi. Quello più importante, quello più clamoroso al trentatresimo del secondo tempo con il, possiamo vedere dalle immagini, il lancio di sinistro di Lunardini, di destra anzi la testa di Gucci e vedete la trattenuta netta di Capitan Komotto ai danni di Sivilla. Ultimo uomo Komotto perché Sivilla a quel punto avrebbe sicuramente, se non fatto gol, comunque creato sicuramente, era una chiara opportunità da gol, la trattenuta alla maglia numero 7 di Andrea Sivilla da parte di Komotto. Vediamo qui il lancio di destra di Lunardini, la spizzata di Gucci e la trattenuta netta di Capitan Komotto. Sivilla ultimo giocatore tra il portiere Ozak e appunto il difensore Canarino. Rigore netto tutta la vita e espulsione del capitano ex cittanovese Komotto. Quindi una topica, quella del direttore di gara Cascella di Bari che poteva appunto cambiare le sorti della partita dando un rigore all'Alma Juventus Fano. Quindi Alma ancora defraudata di un tiro dal dischetto e tre punti che l'Alma sicuramente ieri avrebbe meritato. Ed ora i risultati e la classifica con le pagelle della gara di ieri, undicesima giornata del campionato nazionale direttanti Serie D Girone F. Alma Juventus Fano Fermana 0-0 Ha scoppito San Benedettese batte Amiternina 3-1 Folgore Veregra batte San Nicolò 2-0 Giulianova e Avezzano 0-0 Isernia batte Chieti 2-1 Matelica e Castelfidardo 2-2 Monticelli e Agnonese 3-3 A Recanati gara giocata a porte chiuse Iesina batte Recanatese 3-0 Vi spesano il campo basso 1-1 Per una classifica che vede la lepre solitaria San Benedettese che allunga a più 4 sul San Nicolò 25 punti la Samb 21 il San Nicolò Quindi la Matelica a 20 l'Alma Juventus Fano a 18 Quarta forza del campionato insieme alla Folgore Veregra Montecranaro la rivelazione del campionato fino a questo momento Avezzano 16 punti Monticelli, Castelfidardo, Iesina e Isernia 15 Chieti e Fermana e Campobasso 14 Recanatese 11 Amiternina e Vispesaro 10 Agnonese 9 Chiude il fananino di Corra Giulianova A 8 punti Alma Juve che domenica sarà priva di diverse pedine Anche Lunardini ieri Ammonito va in diffida Quindi squalificato Non recupereranno sicuramente Torta e Borrelli Mancherà ancora Nodari Nella Tana vedete del Avezzano Che si trova proprio dietro l'Alma di 2 punti Una gara molto difficile che l'Alma sarà chiamata a mostrare questi progressi visti ieri nella gara con la Fermana Ora le pagelle della gara di ieri Alma-Fermana Ginestra 7,5 Salvato 7 Camilloni 7 Lunardini 6 Verruschi 7 Mei 6,5 Civilla 5 Favo 7 Gucci 6,5 Chiacchiarelli 6,5 Marconi 6,5 Falsaperla 6 Bartolini senza valutazione Buongiorno senza valutazione Mister Alessandrini 6,5 Direttore di gara Cascella di Bari 5